E si chiude un'altra puntata di Fanny Moon, Fabrizio qui tocca aspettare un'altra settimana. Che ridi? Che succede? Ma io perché sto ricerso sta cominciando a diventare ansiolitico. Ansiolitico? Non lo fai così. A parte che, dimmi, dimmi, perché poi c'è tutto un pensiero riguardo pronto qui sulla nostra panca. O sulla prugna? Perché sei sopra la panca? La capra? Eh, gli è gampa, è sotto che gli è crepa. Poi c'è l'ho letto una notizia che hanno fatto fuori delle capre, colpa dell'Isis, poi bisogna vedere se è vero. No, ma quello tra un po' aprile succede, ne fanno fuori parecchie. Ma non è lì, si cerca, carbonara che sta... A proposito, la Pasqua, quando arriva quest'anno? Allora, bisogna contare, radici quadrate di 70 centri. Fine marzo era? Sì, marzo. No, così no, poi l'operatore... Eh sì, perché è fine puntata, quindi a fine marzo. Allora, a fine marzo è nevato. Ok, poi... Ma questa è l'apertura. No, questa è la chiusura. Quindi? E quindi marzo. Alla fine marzo. E allora, se vediamo la prossima settimana... Sì, ma prima di salutare te, mi tocca dire un'altra cosa. A parte queste... Io mi sono incastrato con un'app. Allora, ve lo volevo dire, se avete l'iPhone C, c'è un'app che si chiama MSQRT, la cosa sta l'iPhone C? È solo per l'iPhone C? È solo per l'iPhone C, io che c'è il Samsung che mi dice male, ma mi incastra brutto. Io ho messo, ho postato dei video che ti fa le facce, il morphing, ma mi fa troppo rite, guarda. Ma mandateci questi video simpatici, che noi magari li mandiamo pure in televisione. Sì, 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 il video è più divertente, lo mandiamo in onda. Davvero? Eh, sì, sì, sì. E dove bisogna mandarli questi video? A www.facebook.it, cercate... Ah, ma pesa largo, ok. Sunnymoon. Oppure iscriveteci al 33338693 tramite sms, chiamate, cercate, mandateci il link anche su YouTube. Sì. Oppure, ecco, iscrivetevi a proposito, nel nostro canale YouTube, che anche lì noi andiamo in onda con tutti i nostri servizi, i nostri video. Diciamolo che adesso lo chiamano il podcast. Noi abbiamo un bel podcast, eh. Devo dire che sono anni... Un bel podcast. Sono anni che abbiamo un bel podcast. Decast. E venitela a controllare, perché poi che fanno? Facciamo tutti questi podcast. A proposito, come se... Sti popò de cast. Ne cerchiamo altri di cast. Altri popò. Altri popò. Non vogliamo più popò. Artisti, cantanti, ballerini, attori. E niente popò di meno che... E niente popò di cast che... No, registi no, non ci servono. Come no? Dobbiamo fare quelle cose che tu stai davanti e dietro di tutti quanti. Ah, è vero, sì, sì, sì. Però, comunque, per tutti i popò che vogliono andare in televisione ed essere anche conduttori, perché noi ci chiamo sempre noi conduttori e conduttrici in questa trasmissione. Perché? Perché noi cominciamo ad avere una certa età, dobbiamo la faccia da parte. E che lo dico più, guarda, la barba ormai si evidenzia. È vero, è bianca, è bianca, è bianca, è bianca. Sì, effetti speciali. E quindi, voi giovini, che volete provare, diciamo, questa nuova esperienza e diventare nuovi volti di questa trasmissione. Esatto, bravo. Scriveteci al 333-333-8693, chiamateci, contateci e noi vi mandiamo in televisione. Però c'è un perché. Perché? Diciamo che questa è l'era che tutti fanno video, tutti postano, tutti vogliono fare esibire. Se vi mettete sul canale vostro che è triste e non vi guarda nessuno, c'è un senso? No. Allora voi fateli, poi ci rimandate, ci vedi chi siete e noi vi lo mandiamo. E se è veramente un bel video, con bel po' podcast, vi facciamo anche l'intervista, ci vediamo, ci conosciamo, vediamo nuove idee, una cosa a dire l'altra. Vi facciamo pubblicità gratuitamente, soprattutto se siete artisti. Ricordiamolo sempre che noi cerchiamo sempre nuovi artisti. Ho detto serio? Esibire, se siete, se siete. Vabbè, che altro ci è rimasto da dire? Bene, allora questa è Fiscia Puntà, ci vediamo la settimana prossima, sempre su questa rete. Se vi siamo piaciuti, mettete un like, se dice così. Esatto. Oppure iscrivete al nostro canale YouTube e se non vi siamo piaciuti... Sti cazzo. Se vediamo la settimana prossima comunque. Quindi adesso è finito? È capisci. È la fine marzo. E pure. Anni Moon Grazie a tutti.